L'Italia, Under-19, è campione d'Europa, infatti stende e batte il Portogallo per una rete a zero in finale. Tutto viene deciso grazie a quel meraviglioso, straordinario, epico gol di Cagliotti che la mette dentro. Il centrocampista della Fiorentina riesce a compiere grandi cosi grazie a questo straordinario gol che porta, che mette in campo evidenzia un fisico, o mi è giocato bene, mi è giocato meglio, di conseguenza la vittoria è straordinaria e nitida e porta l'Europeo Under-19, tutto nelle mani dell'Italia che diventa campione d'Europa. Battendo il Portogallo in finale per una zero, è stato, ripeto, quel magnifico gol di Cagliotti a portare a formeggiare la vittoria e a assistere alla relativa festa che c'è stata di recente. vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di Youtube, iscrivetevi, se vi fa, commentate, complimenti all'Italia Under-19.